Benedì 3 gennaio 2020, presso il ristorante Vallo City, proprio a Vallo della Lucania, vi sarà una cena di beneficenza per una raccolta fondi da destinare all'associazione Mavu di Abate Marco. Tale cena è promossa e sostenuta dalla Fondazione Grande Lucania e in primis dal Presidente, il Senatore Francesco Castieri. Sì, ringrazio il Presidente della Fondazione Grande Lucania, il Senatore Francesco Castiello, che ancora una volta si è mostrato sensibile rispetto a quella che è l'attività della nostra associazione, organizzando una cena di beneficenza in nostro favore. Pertanto sono lieta di invitare tutti coloro che hanno piacere e la possibilità di sostenere le nostre iniziative a venire domani sera al ristorante Vallo City, a Vallo della Lucania appunto, alle 20.30. per questa bellissima e piacevolissima cena di beneficenza, nel corso della quale, con un piccolo contributo di 20 euro, sarà possibile sostenere le nostre iniziative a favore dei pazienti oncologici presenti sul nostro territorio.